Noi siamo qui per protestare per gli stipendi che non percepiamo oramai da 24 mesi e siamo qui per capire quale sarà il nostro futuro. Un futuro ancora troppo nebuloso, ancora troppo incerto. I lavoratori del Cotir di Vasto, dopo essere saliti sul tetto della loro sede, sono tornati a protestare, questa volta nella sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara. I ricercatori del centro, che si occupa di innovazione in agricoltura, chiedono certezze all'assessore all'agricoltura Dino Pepe e al presidente della regione Luciano D'Alfonso circa il futuro del Cotir, oggi in liquidazione. Intanto dall'assessore Dino Pepe è arrivata la rassicurazione del pagamento di 12 mensilità. Ieri abbiamo eseguito il primo bonifico di 150.000 euro e oggi seguiranno altri 320.000 euro a favore del Cotir. 12 mensilità saranno saldate da qui alle prossime ore. Ma io voglio ringraziare l'impegno dei dipendenti del Cotir, la loro dedizione, la loro professionalità e soprattutto la loro dignità. In questi mesi hanno continuato a lavorare, a portare avanti i progetti di ricerca, soprattutto per definire quelli relativi alla misura 124 del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Progetti importanti che ci consentiranno di evitare il disimpegno, cioè la restituzione dei fondi a Bruxelles. Sul futuro del Cotir e degli altri tre enti di ricerca regionali, oggi in mano ai commissari liquidatori si è espresso D'Alfonso, che ha voluto incontrare i ricercatori. Faremo un unico ente regionale della ricerca che sia sostenibile finanziariamente perché in futuro non sarà più possibile ripianare i debiti, ha detto il governatore, che ha anche annunciato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura di Vasto per far luce sui debiti accumulati negli anni dal Cotir. I lavoratori sperano che la legge di riordino dei centri di ricerca veda presto la luce. Siamo assolutamente favorevoli a razionalizzare anche le nostre attività di ricerca perché noi facciamo ricerca applicata e sperimentazione in agricoltura e un ente unico potrebbe avere anche forza maggiore per essere presenti sul territorio, per avere delle ricadute maggiori. In fondo siamo piccoli, noi siamo 27 dipendenti e il Crab di Avezzano ne sono circa 25, quindi un totale di 50 persone che si occupano di un aspetto importantissimo per la regione Abruzzo.